E ciao a tutti amici sono sempre io Gold e benvenuti in questo nuovo episodio di Rimworld Allora non partiamo direttamente con la colonia perchè alcuni di voi anche in passato mi hanno chiesto Gold ci fai vedere la lista delle mod che utilizzi? Certamente, non ve le spiegherò tutte, magari quelle più interessanti si ma diciamo di no Allora vai questa qua semplicemente per caricare le librerie, vediamo Utility, Utility, Query la conoscete benissimo Questa qua è comoda, Blueprints, Utility Questa qua è la mod per l'erba che la fa crescere un po' più velocemente Questa è molto comoda ma credo di averla già spiegata, Death Rattle Comunque guardate bene i nomi se avete delle domande basta che chiedete e vi rispondo nei commenti Guardatevela bene Allora che ci penso, questa lista di mod è stata testata più e più volte in altre colonie E diciamo che sono le più bilanciate e comode da utilizzare Ce ne sono alcune che sono comodissime ma sono sbilanciate Comunque sono un po', non sono tantissime, ma sono un po' diciamo Per farvi capire che tutte le altre le utilizzo molto anche E sono ottime mod decisamente Figuriamoci, guardate quante ce n'è che non ne ho attive Però ce n'è davvero tantissime Comunque questi qua sono i nomi, magari stoppate se volete vederveli E se avete delle domande su determinate mod Chiedete pure che vi rispondo al meglio possibile Magari ve ne linko anche se siete interessati Comunque detto questo iniziamo Carichiamo la nostra partita Allora, negli scorsi episodi 3 per la precisione Perché mi sono dimenticato di mettere su il timer Abbiamo fatto parecchie cose Ma la cosa più importante che abbiamo fatto è stata mettere su l'infrastruttura Diciamo per i servizi idrici e igienici E teoricamente dobbiamo continuare in queste puntate Perché appunto non siamo ancora messi bene Anzi abbiamo anche dei malati se non erro Fatemi vedere Eh, a parte che tutti stanno proprio male Sono messi male Poi vediamo C'è qualcuno che è effettivamente malato Mi ricordavo di sì Magari sono stati curati Che strano Poi tutti hanno la meccanità sensoriale Cioè schifo più totale Poracci Beh dai jean Beh dai jean A parte che No ok, forse si sono ripresi tutti Possibile? Possibile Vi dico però che adesso abbiamo qua i bagni funzionanti E quindi dovremmo essere pronti per sostenere L'espansione Però con la ricerca non siamo messi bene Decisamente Anzi Sti poveraci stanno facendo ancora una doccia con l'acqua fredda Ma vabbè pari normali Qua abbiamo risorse sparse sostanzialmente Restrizioni Fatemi vedere un attimo Tutto a posto E ogni tanto non ci do un occhio Però devo stare attento Bravi, bravi Portate tutto a posto Allora Qua dietro avevamo messo sui L'impianto per il trattamento delle acque C'è un ride Qua c'è la water tower di legno C'è la torre L'acqua Così il serbatoio d'acqua Che viene riempito da queste Allora viene riempito Dalle pompe Che però pompano l'acqua fuori dai Dai nostri pozzi Questi tre pozzi Queste tre pompe Nella scorsa puntata abbiamo fatto Appunto il solito muro difensivo 3x3 Per Per coprire la zona Spandi zona con tetto Certamente Qua per forza Qua è già una zona con tetto Perché c'è la C'è la montagna Però qua no Allora Un gruppo di indigeni Dai va bene Ma sono pochi per lo più Allora Purtroppo però è notte Cioè quasi mattina Quindi magari Si devono ancora svegliare tutti Io nel dubbio Scusate se vi devo Interrompere Sì Faccio andare Qua ovviamente Dai No facciamo così Li faccio andare qua Dai devastator mortar Come giusto che sia E Li faccio Li faccio Attaccare I banditi E poi preparo il resto Delle difese Mettendo la gente Qua Alle Torrette Ora però Non farò andare a dormire Borraccia Ok Tu vieni qua Tu non vieni Tu non vieni Ah ma avete detto Come chiamare Ratto grigio Gli cambiamo subito Il nome Se solo mi ricordassi Come Poi Poi devo controllare E Wombat Ti sei appena Trasferito qua Allora Cosa gli diciamo Prima di tutto Aspettiamo che siano Tutti in posizione Dopodiché Gli diciamo Wey Lo vedi a sparare Si stanno dando Una mossa Sì Stanno arrivando Bravi bravi Che vi preparate E non attaccate Subito Ecco no Allora Tutti Hold your fire Cessate il fuoco Manca l'ultimo Che sta arrivando Ma E' lì sti Merda Bufala Toccate Mi dispiace Ora adesso Piano Come la scorsa volta Facciamo fare Un bel bombardamento A tappeto Se siamo fortunati Forse i tizi Delle torrette Non li vedono Nemmeno Questi qua Però dobbiamo Essere fortunati Nel senso che Tiriamo tutti bene Con sti mortai E che quindi Non Si possono Neanche avvicinare Si che sono banditi Però mi dispiacerebbe Se qualcuno venisse Anche solo ferito Da sti stronzi Perché dai Cioè Sono banditi Siamo A un livello Tecnologico Assurdo Ok Ok ora Dovreste poter Sparare voi Infatti Sono partite Tutte Dio mio Pronti Sì Sì Eh scusate 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 per i Secondi di silenzio Imbarazzanti Però sì Più o meno diciamo che mi aspettavo Un risultato del genere Oh mio dio Vediamo se riusciamo a salvare cane Eh bootpacker Prova a salvare dinosauro Oh poi Dilaniamento Fratture Dilaniamento Questo c'ha il fegato dilaniato Un rene dilaniato Torso braccio sinistro Boraccio Questo qua è in coma Questo è assolutamente in coma Eh sì non lo salviamo Cervello cicatrice figuriamoci È in coma per cosa? Eh mi sa per cervello Eh proviamo a salvare Non credo ce la faremo Però è da provare Abbiamo ucciso anche un tacchino Che purtroppo si trova lì Purtroppo per lui Non per noi Questo è in coma Vediamo tra quanto schiatta Non so se lo salvo Oh ma che cazzo fate? No è vero mi sono dimenticato di Dirlo a loro Allora Hold your fire Ok tu hai finito Tu hai finito Tu hai finito Tu hai finito Tu non hai finito Tu adesso fai ricaricare la torretta E poi te ne vaffanculo Fatemi però un attimo vedere Se hanno salvato i due tizi Sono ancora in arrivo Perfetto Basta Allora Eh bisogna vedere se riescono a salvarlo Non credo eh Non credo Soprattutto quello in coma L'altro Forse Non lo so Vediamo Eh dobbiamo dire abort Eh no Figuriamoci Ah no questo qua era quello del coma Giusto? Mentre l'altro No ho sbagliato Ah ce n'era uno che si chiamava cane Che lo stava portando Qualcuno La cazzo è andata a finire Va Questa qua me lo immaginavo Che sarebbe morto Ma l'altro no Dove cazzo è finito Eh son qua Ok surgery Fate un attimo Stockpile Eh niente Si pare sia schiattato anche l'altro A sto punto Non mi viene in mente Dove sia Però probabilmente schiattato Voi che cazzo ci fate qua Ma che cazzo siete voi Ah sono quelli della scorsa volta Che però non accettano organi Che però non accettano organi Ho già controllato Ok qua hanno coperto Bene Se ne stanno andando Ecco qua un altro E' vero Circa Ok Ok dove ti faccio passare Ti faccio passare da qua Poi da qua Poi da qua Ah madonna Che giro del cazzo Eh facciamo così allora Passiamo da qua Da qua Da qua Basta E' un giro penoso Però va bene Trebo trogo Mi trogo Perché ste battute stupide Che chi è qua Vomito di trebo Adesso ci fa trebo No Ok Ah ratto grigio A me Ah qua dovrebbe essere Su Sociale Abilità Acqua Il nome Toglio il ratto grigio Chiamiamo Mariano E ora Mariano Fuori da queste stanze Stronzi Ambigliamento rovinato Chi è? Tildema Cos'hai di rovinato Nulla Non è niente di rovinato Ah si la camicia di tessuto Eh ma Non ci sono camicie? Non ci credo Ah si ecco le cose Ah 52 Devo dire di bruciarle Oh che è successo Ah cold water Ecco perché Eh ci stiamo lavorando Non è vero Non è vero Non è vero E dobbiamo prima andare Sul trattamento Delle acque reflue Non so io Cercare se tra questi C'è cane Cane Eccolo qua È morto Per la perdita di sangue Niente Sia lui Che il dinosauro Sono andati Eh peccato Potevamo farci qualche altro colono Ma Fa niente Fa niente C'è uno schifo All'interno della colonia Sakura Comatoso Cosa succede? Perché poraccia? Non riesce a camminare Allora Bufala Perché non stai Lavorando Alle Camice Perché è sospeso? Perché Perché si sono spese le camice? Aspetta Che tessuto? Ah tessuto Che tessuto è? Eh tessuto È solo perché ho visto Il colore diverso Allora Una scrofa adulta incinta Ok Oh mi sa che tra un po' qua Dobbiamo tagliare Tra gli animi Guarda lì Compleanno Oggi è compleanno di Hendrix 38 anni Andate almeno Pato 38 anni Poraccia te Abbiamo acciaio? Sì Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Vedo che vi divertite Molto solenne In questa zona E meno male Allora Fatemi vedere come siamo In situazione Pasti 439 469 Aha State lavorando Allora C'è uno schifo Qua dentro Ok dai Voi Finite ora Però Basta C'è altro Da Da lavorare Qua Ad esempio Vort Oddio Il mio lag Dovresti ricercare Appunto Chissà se riusciamo a fare Il trattamento Delle acque reflue Stiamo quasi a 2100 Proviamo alla 3000 Animale impazzito Questo animale È impazzito Aspettate che incontri Le torrette Morto Ah mi avete chiesto Dove ho fatto finire Tutto il marmo Che ho scavato Scavando nella montagna Principalmente L'ho rimpiegato Per fare i muri Se non l'ho rimpiegato Per fare i muri Probabilmente È qua Anzi Ho tolto il probabilmente È qua Questa qua È una linea di difesa Che si chiama proprio Appunto Ostacoli È una discarica Dentro la quale si mettono Di solito anche Cadaveri Però In questo caso Ci metto solo pietre Pietre e alberi Di solito si mette E Appunto Gli attaccanti Durante un ride Devono passare Questi pezzi di arenaria Che rallentano Un casino Non c'è scritto Però Quanto rallentano Comunque rallentano Tantissimo E in più dopo Ci mettete anche Il fango Velocità di movimento Un quarto Di quella normale Davanti a queste torrette qua È tipo lo sbarco In Normandia Più o meno Ehi C'è spuglia di ambrosia Ambrosia Pronto alla raccolta Pronto alla raccolta Bene Pronto alla raccolta Pronto alla raccolta Pronto alla raccolta Pronto alla raccolta No No Questo non è ancora Bene Un po' di ambrosia Dai Ci sta Ci sta Ottimo Almeno i nostri I nostri coloni Si rivertono un po' Si rivertono Oddio Si prendono Quel bel buff Eccola qua L'ambrosia Scusa Ah no Ok No 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 Ah ok Stanno un attacker Visitatori Eeeh Quanti siete Potrei uccidervi Tut Cosa Come Scusa Uccidere Tut No Non si fa Scusate Stavo controllando Una cosa Ok Allora Ricerca Serious Treatment Dai ci siamo Quasi Quasi 2900 Non dovete andare a dormire Non andate a dormire Adesso Un'altra giornata In cui devono ricercare E basta E basta E basta Oddio qua Quanta roba Trasportate con urgenza Trasportate con urgenza Ma queste no Non mi interessa Curiamoci Cioè siamo a 300 medicine Scaffale legno mediocre Però no Superiore Buono Scadente Come vi permettete Copia parametri Però Non si sa mai Mobile Scaffale di Acciaio Siamo in un ospedale Acciaio Nessuno ci andrà Come minimo Perché adesso Vanno tutti a dormire Va bene Facciamo che Aspettiamo Allora Nel mentre Voglio un po' Riguardare Tutta questa Storia qua Nuova Perché ci sono Ovviamente La moda è stata Aggiornata Quindi immagino Sia molto 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 Più Complessa Adesso Ad esempio C'è questo Kitchen sink Guardiamo un attimo Qua su Water treatment L'abbiamo già visto Sostanzialmente serve Appunto per trattare L'acqua E purificarla Diciamo Questa qua Appunto La qualità dell'acqua È safe Perché è trattata Poi Un Septic tank Che dovrebbe essere Un Com'è che si chiama Pozzo nero Pozzo nero Una cosa del genere Dove appunto Vanno direttamente I I liquidi Reflui E quindi dovrebbe essere Una cosa del genere Dove Viene mandato appunto Lo scarto E poi se necessario Se questo qua è pieno Viene mandato Da Dal Questo qua Sewage outlet Che non è altro Che uno sbocco Ecco Eccolo Poi vediamo Remove Sewage Niente Ok Perfetto E dovrebbe essere Per Le cose A terra Ah ma qua c'è Per le cose A terra Che possono essere Rimosse Poi rimuovi Pipe Paint Fin Uh Carino 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 Mi piace Così Stupidissimo Però va bene Poi No Non ve ne andate Ecco Commerciate con noi Non avete nulla Voi da commerciare Vi all'ambrosia Potremmo pagare tutto Componenti E questo lo compro Luciferum Sì Ciao No Ho detto di no A Luciferum Perché me lo voglio tenere Adesso comunque Torniamo alla mod Vedo un attimo Se posso vendere qualcosa Di scadente O di quasi rotto Ehm Ad esempio voi Tutto ciò che è al 50% Dovrei venderlo Sostanzialmente Meno 200 Ah ok Capito Non stavo capendo Ehm Facciamo un Meno 400 Meno 500 Ehm E va bene così Accetta Va bene Eravamo qua Il plumbing Non sono altro Che le tubature Le porte Della latrina La latrina Queste qua sono cose Molto Basilari Questa qua è una latrina È un Ma che si chiama C'è anche su Kingdom Come Deliverance Comunque Un wash bucket Quindi un secchio Per lavarsi Questo qua È un Fuoco È un pozzo Per Per bruciare Diciamo Una buca Nel terreno Deve bruciare Qua ci si possono Bruciare Appunto Qualsiasi Detriti Rifiuti Corpi Umani E cose del genere Lavandino Gabinetto Vasca Bagno Doccia Pozzo Serbatoio D'acqua Poi una pompa Per l'acqua A vento E questa qua Invece Quella elettrica E questa qua Invece È il sewage outlet Che è lo scarico Per i rifiuti Andando invece Su miscellane Oh Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Bene Andiamo subito Su Central Central Hitting Dovrebbe essere Scusate un attimo Facciamo Piccola divagazione Per Oh Costruire Questo Blocone Bellissimo Ora Ora però Devo dire a qualcuno Di Venire Mi serve Qualcuno Che costruisce Non è influenzato Tu sei influenzato Bene Perché adesso Dobbiamo Bucare Quei muri Cioè togliere Togliere il muro Dobbiamo Bucare quel muro Fare una porta Togliere i muri di pietra E mettere i muri di marmo Ok Almeno adesso possono scavare Scaveranno Noi chiuderemo Credo Yes Wow Bort Perché Bort Che è uno scienziato Dovrebbe ricercare Scava Bort Non farlo Oh Lascia fare agli altri No Che macella Dunque Mentre che vediamo Come si evolvono Le cose Allora Anche qua Una lettiera Il lavandino Per il Per la cucina La lavatrice Non so come mai sia qua Però E noi E noi le mettiamo Sapete cosa Noi le mettiamo Le lavatrici Fa un culo Questa qua È una valvola Per i Per i tubi Un compostatore Ok Noi non lo utilizzeremo Però è comodo Per fare il Fertilizzante E questa qua Invece è Biosolid Fertilizer Ah Che è tipo Il terreno Fertile Questo qua Soltanto che è fatto Tramite la mod Comodo Grazie a tutti